La prima lettura e il Vangelo di questa domenica sono molto coerenti fra di loro, sono sempre, ma questa volta proprio abbiamo la stessa storia, veramente che passa dall'Antico Testamento al Nuovo. Noi ci aspetteremmo un passaggio di addolcimento del quadro. E' questa la cosa curiosa di questa liturgia, ovvero sia. Nel capitolo quinto del profeta Isaia il Signore canta il canto d'amore per la sua vigna, la quale, pur seccurata, ben piantata, dissodata, colmata di tutte le prerogative per poter crescere, rigogliose e dare bellissimi frutti, produce acini acerbi. produce uva immangiabile. E questa storia esce fuori di metafora il profeta e il Signore dice per suo mezzo «Ho fatto tante cose per voi, avete prodotto invece cose che non si possono guardare. Aspettavo giustizia ed ecco spargimento di sangue, attendeva rettitudine ed ecco grida di oppressi». Il Vangelo parla di una parabola che Gesù dice ai sacerdoti e agli anziani del popolo. chi sono? Sono coloro che dovevano essere la creme della creme del popolo di Dio, coloro che erano più a contatto con la santità, i sacerdoti, coloro che rappresentavano del popolo, la parte nobiliare, la parte più colta, la più preparata, gli anziani e i sacerdoti. Ecco, sono gli uomini più coltivati, più colti, è la stessa parola, quelli più addentro alle cose di Dio. Sono coloro che sono stati introdotti nei doni di Dio e come dei vignaioli, i quali hanno ricevuto una vigna circondata da una siepe con una buca per il torchio, dotata di una torre e consegnata perché dia frutto. Quando il padrone chiede il frutto, loro rispondono con la violenza, con lo spargimento di sangue. È la storia di Israele che ha rifiutato i profeti, è la storia di Israele che ha rifiutato gli inviati di Dio, che sono venuti sotto tante forme, fondamentalmente sotto quella dei profeti. E, da ultimo, è la storia di quando il padrone della vigna ha mandato il suo proprio figlio. Questo è uno dei testi in cui più patentemente si vede che Gesù è consapevole di essere l'inviato del Padre e di essere il figlio di Dio, il figlio benedetto di Dio. Lui lo è, lui sa di esserlo. Non è una lettura così che abbiamo fatto noi. Questo è proprio radicato in lui, nella sua consapevolezza e poi in quello che è, che ha fatto e nel frutto che ci ha dato. Ma quello che succede è che il figlio viene ucciso. Il figlio viene stroncato perché così i vignaioli prendano possesso della vigna. e questo è un po' la storia, ripetiamo, analoga, in certo senso, grave, più grave ancora dell'Antico Testamento. Ora, molto spesso noi sentiamo dire cose di questo genere. L'Antico Testamento è il tempo dove compare un aspetto più duro di Dio, nel Nuovo Testamento compare l'aspetto più misericordioso di Dio. Solo in parte potremmo noi avallare vagamente questo tipo di lettura, ma sappiano gli ascoltatori che questa è una lettura veramente fuorviata delle scritture. Le scritture non vanno in questa direzione qua. Il problema è che c'è una gradualità nella rivelazione, come c'è una gradualità nell'apprendimento. Dio inizia a parlare con il suo popolo e piano piano manifesta sempre di più il suo volto. Ma non è che cambia carattere Dio piano piano. Piano piano, secondo il linguaggio dell'ascoltatore, si parla a un bambino secondo quello che lui è, a un adolescente secondo quello che lui è, a un adulto secondo quello che lui è. E si parla a un popolo secondo le sue categorie, poi piano piano queste categorie vengono purificate. Allora, in un certo senso, l'aspetto sempre più misericordioso di Dio certamente si va rivelando, ma Dio si rivela come misericordioso sin dall'inizio, solamente che le categorie di chi lo riceve sono diverse, ma Dio è quello, non è che ce n'è un altro, non è che ha cambiato postura nel frattempo. Allora, nella pienezza dei tempi, il suo figlio nato da donna, per compiere fino in fondo le promesse di Dio, viene in mezzo a noi e compie la nostra redenzione. Ma attenzione, in questo caso, per esempio, quello che viene detto dal Signore Gesù a termine di questa parabola è di una durezza inaudita. E il problema è che, mentre Isaia resta a questa denuncia della cattiva risposta di Dio, qui abbiamo l'ultima parte del Vangelo che è veramente imbarazzante. Quando Gesù ha esposto la parabola, chiede cosa farà il padrone della vigna quando verrà lui in persona, cosa farà a quei contadini? Gli risposero, li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini. Ecco, questa cosa qui è terribile. E Gesù dice, sì, è proprio questo quello che succederà, che perderanno il regno. La pietra che costruiranno scartare è diventata la pietra d'angolo. Vi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti. Quanto noi abbiamo qui davanti non è certamente una parola accomodante, è una parola dura. Dobbiamo entrarci in questa parola dura perché nell'amore c'è un aspetto che taglia, c'è un aspetto che cauterizza, che brucia, che toglie qualcosa. L'amore è incompatibile con alcune cose. L'amore ha una sua virilità, ha un suo no dentro di sé. Se vogliamo amare veramente, dobbiamo saper rompere con certi atteggiamenti. Non è vero che l'amore è un atteggiamento mellifluo, moscio, che dice di sì a tutti. Questo atteggiamento è un atteggiamento in belle, senza vera passione, vero slancio. L'amore è anche passione slancio. E occuparsi di una persona e crescerla vuol dire anche dirgli dei no. C'è un no che viene detto qui in questo Vangelo. C'è un atteggiamento nostro di autoreferenzialità, di non voler dar frutti, con cui non si può restare conniventi, con cui Dio non è connivente. C'è un nostro tirare a campare. E' anche un atteggiamento che è tanto diffuso, tante volte, proprio fra i credenti. Una falsa religione dove, alla fin fine, si resta comunque padroni della propria vita. No, la vigna è di un altro. La vigna è di Dio. La nostra vita non è nostra. Noi siamo chiamati a dare frutto e per dare frutto bisogna tagliare e potare. Potare quando va bene, tagliare quando va male. Per cui in ogni caso comunque perdere qualcosa, come vediamo in un altro testo, che è Giovanni XV, non possiamo restare inerti di fronte a certi aspetti del nostro proprio cuore. Esiste un no che ci dobbiamo saper dire. Ciò che a noi non piace tante volte è dover mettere Dio al centro della nostra vita e se non lo facciamo, perdiamo la nostra vigna. Con questo non c'è bisogno di essere morbidi. Noi abbiamo bisogno di un no. Questo Vangelo parla di una chiamata a dare frutto e ciò che ci impedisce di dare frutto non può avere cittadinanza nella nostra esistenza. Altrimenti rassegniamoci a perdere tutto intero quello che dobbiamo ricevere. Questa non è durezza, questa è semplice verità.